Sul sito del Consiglio regionale, dalla sezione Mostre, è disponibile il link per accedere alla visita virtuale basata su animazione flash di Art e Scienza tra 700 e 800, John Latam e l'Illustrazione Ornitologica. La mostra allestita fino all'8 marzo alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, Piazza Carlo Alberto III. Se si clicca sulle sezioni vetrine, è possibile visualizzare le teche che custodiscono i prezzi di testi ornitologici illustrati al centro dell'esposizione.